Ogni domenica e lunedì il Centro Quotidiano d'Abruzzo e Tutto Sport insieme in Edicola ha soli 1,50 euro. In Edicola un'altra grande iniziativa editoriale del Centro. Ogni domenica e lunedì il Centro Quotidiano d'Abruzzo e Tutto Sport insieme in Edicola ha soli 1,50 euro. In Edicola un'altra grande iniziativa editoriale del Centro. Edicola un'altra grande iniziativa editoriale del Centro.